A Torino non ti vogliamo, a Torino non ti vogliamo, via via presi e polizia, via via presi e polizia. Siamo fuori studenti medi, universitari, precari del Politecnico, precari insegnanti. Siamo qua per gli stessi motivi per cui il Premier ci ha visto in piazza nonostante abbia fatto finta di non vederci per tutto l'autunno. Siamo qua per dire no alla buona scuola, siamo qua per dire no al Jobs Act e siamo qua soprattutto per dirgli che non lo vogliamo in questa città, che non lo vogliamo nelle nostre università perché da tutto l'autunno stiamo dicendo che le sue politiche sono tutte legate dallo stesso filo conduttore, che è lo stesso che lo collega ai governi precedenti. Non vogliamo non solo lui qua ma non vogliamo le sue riforme, non vogliamo i privati all'interno delle nostre scuole, non vogliamo delle scuole al servizio del mondo del lavoro sempre più precario. Siamo qua oggi ma continueremo a essere in piazza tutta la primavera come siamo stati in piazza tutta l'autunno.